A seguito di mirati servizi eseguiti sul territorio di Fisciano, i militari del NOE hanno riscontrato lo sversamento illecito di rifiuti speciali all'interno di un appezzamento di terreno privato sottoposto a speciale vincolo dall'autorità. Al termine degli accertamenti è stato deferito il legare rappresentante di un'azienda locale operante nel settore edilizio, che dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per aver alterato le bellezze naturali di zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. I militari, nell'ambito della stessa operazione, hanno sottoposto a sequestro l'appezzamento esteso su 5.000 m2, nonché un autocarro ed un escavatore utilizzati per lo stoccaggio abusivo.